Tutti quei pensieri che vi rendono pesanti. La voce interiore, attraverso Roberta S. Guide. Bentrovati e bentornati a tutti voi. Liberate la vostra mente da tutti quei pensieri che vi rendono pesanti e vi fanno sentire oppressi. Liberatevi dal peso di quel pensiero che vi porta a credervi insufficientemente forti per affrontare le problematiche quotidiane della vostra esistenza e ora ascoltate le nostre parole che vogliono suscitare in voi uno stato di armonia, un sentire che vibra in maniera tale da farvi sentire uniti gli uni con gli altri. Siate consapevoli che questa vostra esperienza nell'ascoltare le nostre voci non è casuale e, seppure dite di conoscere già molte questioni relative al mistero della vostra esistenza, siete spesso titubanti di fronte alle situazioni reali che la vita vi propone e affrontate le faccende della vostra esistenza come se foste lontani da tutti quei concetti di spiritualità di cui dite di essere a conoscenza. Siate liberi dal vostro pensiero peggiore, quello più pesante, che vi vuole far sentire incapace di muovervi e di superare i momenti di difficoltà. Allora, fratelli, vi diciamo che tutti i vostri cammini sono liberi dal peso, dall'oppressione di un'esistenza sbagliata e sono luminosi e vanno verso una direzione che in realtà è ferma o meglio si muove e in quel movimento c'è il segno della vostra esistenza. Voi non state andando da nessuna parte, siete fermi nel movimento che vi porta esattamente ad essere dove già siete e con questo vorremmo suscitare in voi una curiosità volta non tanto a farvi comprendere il senso del movimento o della staticità ma a farvi percepire il vostro movimento interiore come un qualcosa che si sposta dal vostro concetto di movimento, dalla vostra idea di dover andare assolutamente da qualche parte e di dover prendere qualcosa dal cammino in cui siete. Cercate piuttosto di non calpestare i fiori, cercate di prendere il meno possibile, solo così vi arricchirete. Ogni volta che volete guadagnare punti, che volete capire, che volete prendere, state alimentando quel vostro ego volto a farvi sentire in alto solo per poter poi allontanarvi dalla parte migliore di voi, quella che non ha bisogno di ottenere nulla e non ha bisogno di percepire un guadagno dalla situazione in cui siete. Allora, se volete veramente vivere nella spiritualità come tutti voi dite, siate in grado di essere poi al passo con questa vostra volontà e sappiate rinunciare a tutte le richieste del vostro io più basso, che vi vuole portare a sentirvi felici solo nel momento in cui ottenete un vantaggio, un qualcosa. Grazie.